Ben trovati amici di TechDifferent, dopo la prova in Ultra HD 4K con il Motorola Moto X-Force, siamo qui con la prova in Full HD, questa volta fotogramma posteriore da 21 megapixel, ricordo, facciamo una panoramica, andiamo a fare lo zoom, molto semplice e molto chiaro devo dire, così siamo al massimo, tornando indietro appena appena si vede molto molto meglio, ora torniamo indietro, facciamo ancora una panoramica, andiamo a fare un altro zoom su quella cascina là in fondo al massimo, torniamo indietro, vediamo come si comporta in condizioni di chiaro-scuro, vedete che si adatta molto bene, luce e non luce, direi che per questa prova in Full HD abbiamo terminato, grazie